La funzione dei corpi intermedi in un contesto economico e sociale in continua trasformazione. E' questo il tema della due giorni del Consiglio Nazionale dell'UGL al via nella cornice di Spazio 900 all'Eur, un evento cui partecipano il leader della Confederazione Paolo Capone, i vice segretari generali Luca Malcotti e Luigi Ulgiati, i segretari confederali nazionali e regionali e tutti i dirigenti del sindacato. A illustrare gli argomenti della discussione interna è Capone. Gli argomenti sono quelli che riguardano ovviamente la vita dei lavoratori, la vita di coloro che hanno lavorato, cioè dei pensionati e di coloro che vogliono lavorare, idealmente i nostri figli. Sono le tre direttrici sulle quali ci muoviamo per avere e per costruire un pacchetto di proposte che porteremo sui tavoli di confronto con le parti datoriali quando si tratterà di rinnovare i contratti o di mettere mano anche ad alcuni spazi sindacali all'interno dei contratti stessi, come ne parleremo con il governo man mano che ci andremo a confrontare sui temi proprio di attualità. Il Consiglio nazionale è l'occasione per fare il punto dopo il primo incontro a Palazzo Chigi tra il Premier Giorgia Meloni e i sindacati in vista della presentazione della legge di bilancio. Lavoro, carobollette, fisco, pensioni e reddito di cittadinanza sono le priorità dell'UGL. Il Presidente Meloni ha iniziato con queste parole, la priorità delle priorità è il lavoro ed è uno slogan che facciamo nostro. Io partirei proprio dal taglio del curio fiscale che dovrà essere significativo. Ci aspettiamo che intanto siano prorogate quota 102 opzione donna e la Pesocial per evitare che Fornero diventi effettivamente la legge sulla previdenza dal primo gennaio del 2023 e poi però va fatta una riforma un po' più ampia. Una prima riforma che riguarda quota 41 indipendentemente dall'età anagrafica, quindi 41 anni di contributi per poter andare in pensione crediamo che siano sufficienti e poi si dovrà pensare nel lungo termine come assicurare una pensione a tutti coloro delle nuove generazioni che non hanno avuto una vita lavorativa continua. Il reddito di cittadinanza ha avuto una funzione sociale importantissima durante il periodo della pandemia, dopodiché non ha svolto però la seconda fase che è quella delle politiche attive. Una gran parte è stata assegnata a chi potenzialmente può lavorare, allora l'incrocio tra domande e offerta con la storia di Navigator ovviamente non abbiamo risolto alcunché. Capone esprime infine un giudizio positivo in merito all'incontro con il Presidente del Consiglio, in particolare per la disponibilità a strutturare un dialogo permanente con le parti sociali in una fase assai delicata per il Paese. Ha dimostrato con una particolare sapienza di voler discutere con i sindacati, non soltanto annunciare i provvedimenti, lo ha fatto dando la massima disponibilità. Tutti siamo consapevoli che il momento è particolarmente difficile, è importante la coesione sociale e quindi la capacità di tenuta del Paese. Questo avviene anche attraverso il coinvolgimento dei sindacati che sono una cinghia di trasmissione.